Oggi ricetta della tradizionale torta di mele, morbida e profumata. In questo dolce le mele hanno un ruolo fondamentale, quindi le andiamo ad insaporire. Prima eliminiamo la buccia, poi le tagliamo a pezzettoni e le mettiamo in un contenitore. Aggiungiamo il succo di mezzo limone, poi un cucchiaio raso di zucchero. Io aggiungo anche della cannella in polvere, poiché è una spezia che non piace a tutti potete anche eliminarla. Mescoliamo e lasciamo insaporire le mele almeno per un paio d'ore. Se volete affrettare i tempi potete mettere tutto il composto in un tegame antiaderente e lasciare intipidire le mele. Adesso passiamo alla preparazione dell'impasto. Montiamo le uova insieme allo zucchero. Appena le uova diventano bianche e spumose aggiungiamo latte e olio di semi, in alternativa all'olio potete utilizzare del burro fuso. Poi aggiungiamo la buccia grattugiata del limone oppure un po' di aroma limone. Mescoliamo il lievito alla farina e li setacciamo. Lavoriamo di nuovo con le fruste, mescoliamo prima un po' manualmente per non far volare la farina e poi attiviamo le fruste. Adesso aggiungiamo le mele all'impasto. Ora trasferiamo l'impasto in una teglia. Se la teglia ha la cerniera apribile, allora potete semplicemente imburrare e infarinare, altrimenti utilizzate un foglio di carta forno. Per quanto riguarda la dimensione della teglia, per me la torta di mele, quella classica, deve essere bassa. Si devono sentire molto le mele. Nulla toglie che se la preferite più alta, invece basterà utilizzare una teglia più piccola e prolungare di un po' la cottura. Se vogliamo abbellirla in superficie, possiamo disporre delle fette di mila. Un po' di zucchero in superficie, va bene anche quello di canna, e poi possiamo infornare. Ecco la torta appena sfornata. Zucchero a velo, eccola qui.